Di Harriet Beecher Stowe, la capanna dello zio Tom, liber liber edizioni, scaricato gratuitamente da internet, traduzione non specificata. 1. In cui il lettore fa conoscenza con un uomo che ha molta umanità. Era una giornata freddissima del mese di febbraio e nella città di Pea, nel Kentucky, ad ora già avanzata, due gentlemen, seduti col bicchiere in mano in una ricca sala da pranzo, liberi dall'incomoda presenza dei serbi, discorrevano con molto calore sopra un argomento di alta importanza. Abbiamo detto due gentlemen, ma per modo di dire perché uno di essi, attentamente osservato, a tutto rigore non appariva tale. Era bassotto e atticciato, aveva allineamenti comuni e grossolani, il suo fare pretenzioso e superbo mostrava l'uomo plebeo che agogna di uscire dalla sua sfera. Il panciotto vistoso di vari colori, la cravatta turchina, a pallini gialli, sbollante e svolazzante, corrispondevano in modo perfetto alla sua arroganza. aveva le mani larghe e ruvide, piene di anelli, portava sopra il panciotto una grossa catena d'oro con un fascio di ciondoli di ogni colore e di grandi dimensioni che, nel calore del discorso, era solito agitare con evidente soddisfazione. Parlava un inglese libero dalle pastoie grammaticali e il suo discorso era di quando in quando condito di espressioni tali che, con tutto il nostro desiderio di essere esatto, non avremmo il coraggio di trascrivere. Il suo compagno, il signor Shelby, aveva invece i modi di un uomo ben educato e l'ordine e le suppelletili della casa indicavano l'agiatezza e anche l'opulenza. Come abbiamo detto, i due interlocutori discorrevano di cosa d'alta importanza. «Definirei l'affare a questo modo», disse Shelby. «Non posso accettare le vostre proposte. No, non posso proprio», disse l'altro, guardando il bicchiere pieno che teneva alzato tra gli occhi suoi e la candela. «Perché no, Hayley? Tom supera in pregi ogni altro schiavo. Nevi è somma che possa pagarlo. È fedele, onesto, pieno di abilità e gli governa la mia fattoria come un orologio». «Onesto? Come può esserlo un nero?», rispose Hayley, versandosi un bicchiere d'acquavite. «Oh no, va sicuro che Tom è un servo buono, amorevole e religioso. Egli si fece cristiano, quattro anni or sono, allorché passò di qui l'ultimo predicatore, e io credo che lo diventasse davvero. Da allora in poi gli affidai tutto ciò che possiedo, denaro, casa, cavalli. Gli concessi di percorrere il paese l'ho trovato sempre fedele e puntuale in ogni cosa». «Molte persone non sanno persuadersi che i neri possano avere religione», disse Hayley, levando la mano con un certo gesto di sincerità. «Per me non sono di questo parere. Io avevo uno schiavo, comprato l'anno scorso a New Orleans, tutto religione, di una dolcezza veramente angelica. Lo comprai in un momento in cui il suo padrone si trovava nella necessità di venderlo e ne ho ricavato 600 dollari di guadagno. «In verità, io considero la religione, quando essa è pura e senza miscuglio, come cosa eccellente in un nero». «Tom», riprese Shelby, «e appunto quale voi dite? L'autunno scorso, mandandolo solo a Cincinnati per dare sesto ad alcune mie faccende e riportarmi 500 dollari, gli dissi «Tom, io mi fido di voi perché siete cristiano e incapaci di ingannarmi. Ho la certezza che tornerete. Andate pure». Avendolo alcuni mariuoli consigliato di fuggirsene al Canada, egli rispose loro «Il mio padrone si è fidato di me, io non posso fuggire». «Il separarmi da Tom, seguito Shelby, lo confesso, mi riesce grave. Se siete un uomo di coscienza accetterete la mia proposta e lo prenderete in cambio di tutto il mio debito». «Io ho la coscienza di quanti fanno il commercio, cioè quella poca che basta per prestar giuramento», disse il trafficante con aria beffarda. «E tuttavia sono pronto a fare quanto mi sia ragionevolmente possibile per compiacere gli amici, ma voi sapete che gli affari sugli schiavi vanno male e malissimo in quest'anno». Mandò un sospiro e si versò dell'altra acquavite. «Beh, quanto volete darmene», disse Shelby dopo un penoso silenzio. «Non avete un garzoncello o una fanciullina», ad aggiungere a Tom. «Nessuno da cui io voglia separarmi. Non posso fare a meno d'un solo della mia gente. Per dire il vero è la necessità che mi costringe a vendere». In quell'istante l'uscio si aprì e un piccolo meticcio di 4-5 anni entrò nella sala. Il suo viso era bello e grazioso. Capelli neri, fini come la seta, scendevano in abbondanti ciocche sul suo collo. Guance con le fossette, due grandi occhi neri pieni di vivacità e di dolcezza che scintillavano sotto a lunghe e belle ciglia e guardavano da curiosi nella stanza. Un vestitino scozzese, rosso e giallo, ben tagliato e pulitissimo, faceva spiccare via più la sua bruna bellezza. Un'espressione di franchezza comica, attemperata da modestia, denotava come egli fosse solito essere accarezzato e vezzeggiato dal suo padrone. Shelby prese un po' d'uva e la lanciò verso lui. Piglia, Enrico, piglia, gli disse. Il fanciullo si slanciò con quanta forza aveva e questo fece ridere il suo padrone. Vieni qua. Egli si accostò al padrone che gli pose la mano fra i capelli e gli dia una lisciatina sulla guancia. Enrico, fai vedere a questo signore come sai cantare e ballare. Subito il fanciulletto intonò con voce chiara e sonora uno di quei canti selvaggi e grotteschi usati fra i neri. Nel tempo stesso faceva con le braccia, con le mani, con tutto il corpo varie mosse comiche, ma in accordo perfetto con la musica. «Bravo!» esclamò Hayley, porgendogli uno spicchio di arancia. «Enrico!» disse Shelby. «Cammina al modo del vecchio zio Caggio quando hai dolori reumatici». Subito le pieghevoli sue membra si atteggiarono alla deformità e allo storcimento. Curvato il dorso, col bastone di Shelby in mano, col volto contraffatto, si dia a camminare intorno alla sala sputacchiando a destra e a sinistra come un vecchio. I due spettatori si sbellicavano dalle risa. «Enrico, mostraci come il vecchio Elder Robbins canta il salmo in chiesa». Il fanciullo allungò in modo strano il suo viso paffuto e canticchiò in tono nasale un salmo con imperturbabile gravità. «Bravo!» gridò Hayley. «Questo bimbo fa per me. Aggiungete questo fanciullo!» disse battendo con la mano sulla spalla di Shelby. «E la faccenda è conclusa». In quel momento l'uscio, sospinto pian piano, si aprì e una meticcia di venticinque anni circa entrò nella sala. Un solo sguardo gettato sul fanciullo e poi su lei bastava per far conoscere che ella era sua madre. Aveva gli stessi occhi neri, nascosti sotto lunghe ciglia. Il color bruno della sua carnagione lasciò trapelare un lieve rossore sulle guance quando si accorse che quello straniero la fissava con uno sguardo di audace cupidigia e ammirazione non dissimulate. Gli abiti di lei erano della massima nettezza e adattissimi in guisa da far spiccare le sue bellissime forme. La mano piccolissima e il piede bentornito, la nocca delicata, erano cose che non potevano sfuggire allo sguardo pronto di un mercante avvezzo a riconoscere di un sol colpo d'occhio i pregi e i difetti di un capo di merce femminino. «Ebbene, Elisa?» «Cercò Enrichetto». Tosto il fanciullo saltellò verso lei mostrandole l'uva che aveva raccolta nel lembo del suo vestitino. «Conducetelo altrove», disse Shelby. Ella se ne andò subito recandoselo in braccio. «Per la barba di Giove», esclamò il mercante preso d'ammirazione. «Ecco un bel capo di merce. Quando vi piaccia potrete fare la vostra fortuna ad Orleans. Io ne ho in vita mia comprate delle migliaia, ma non ne ho mai veduta una così bella». «Non voglio fare con essa la mia fortuna», disse Shelby in tono asciutto. Poi, per cambiare discorso, sturò un'altra bottiglia e domandò al trafficante che pensasse di quel vino. «Eccellente, di prima qualità. Su via, quanto volete vendere quella donna? Quanto ve ne ho da offrire?» «Signor Hayley, ella non è da vendere. Mia moglie non la darebbe per tant'oro quanto pesa». «Oibo, le donne dicono sempre così. Non sono buone a calcolare, ma indicate loro quanti orologi, catenelle e gioielli possono comprare col loro peso d'oro e ben presto cambieranno d'avviso». «Vi ripeto, Hayley, che è inutile parlarne. Dico di no, assolutamente». «Mi cederete almeno il fanciullo? Dovete esservi accorto quanto mi piace la sua bellezza e la disinvoltura dei suoi modi? E a che potrebbe servirvi? A che? Oh, io ho un amico che quest'anno tiene un siffatto ramo di commercio. Gli occorrono alcuni bei garzonetti per tirar più avventori al suo negozio. Sono capi di merci di fantasia, si vendono ai ricchi che li pagano a sei caro prezzo per servire dalla che, aprire lo sportello, accompagnare, attendere i loro padroni. Noi abbiamo su di essi un bel guadagno e questo fanciullo così comico e siabile è appunto il capo che mi ci vuole». «Non voglio venderlo così presto», disse il signor Shelby con aria molto pensosa. «Io sono umano, né mi piace distaccare i figli dalle loro madri». «Comprendo benissimo il vostro sentimento. Le donne in tali casi non la finiscono più con i loro pianti e le loro querele. Anch'io aborro le scene di lutto e di desolazione. Sono spiacevoli e perciò nel trattare gli affari io le schivo più che posso. Ora, che avverrà se mi date il fanciullo? Uno o due settimane dopo le cose torneranno alla loro calma abituale e le vostre faccende domestiche andranno come prima. Vostra moglie comprerà alla madre un bel paio di orecchini, una nuova veste o altre simili bagatelle e questa sarà subito tranquilla e si rassegnerà facilmente al destino». «Eh, temo di no». «Ma sì, ma sì, Dio vi benedica. C'è chi dice essere questo un genere di commercio contrario ai sentimenti dell'uomo? Io non l'ho mai potuta capire. È vero però che io non adopero i mezzi di certi trafficanti. Io non strappo, come fanno essi, i figli dalle braccia delle loro madri per porli subito in vendita. La qualcosa fa loro mandar grida forsennate. È questa una cattiva tattica che riesce solo a danneggiare la merce e ridurla per qualche tempo nell'incapacità di servire. Conobi a New Orleans, una giovane che con questi modi fu uccisa. Un giorno le vollero togliere il suo bimbo e Della fuori bonda se lo strinse tra le braccia, urlò come una belva e divenne terribile. Mi sento rabbrividire a solo pensarvi. Allorché le fu tolto il bimbo e non lo vide più, ella divenne pazza e morì al termine della settimana. Perdita di un migliaio di dollari per pura mancanza di tatto. È sempre meglio fare le cose con umanità, così almeno mi ha insegnato l'esperienza. Il mercante si sdraiò sopra la seggiola, incrociò le braccia con una certaria umanitaria, considerandosi di certo un secondo Walberforce. Poi, come tirato dalla forza della verità, sorse in piedi e soggiunse. Io sono contrario a sentire l'individuo che si loda da sé. Ma dico questo perché è vero. Io sono uno di coloro che condussero le più belle mandri di schiavi. Non una volta, ma cento. Sempre li resi grassi e sani e non ho perduto meno dei miei colleghi. Ciò dipende dal mio modo di trattarli. Sì, signore, l'umanità è il gran fondamento della mia tattica. Mi era qualche cosa di così piccante e singolare in quella dissertazioncella di umanità che Shelby non poteva far a meno di riderne. Il riso di Shelby incoraggiò al nostro mercante. Cosa strana, egli disse, che io non abbia mai potuto ficcare queste idee nella testa altrui. Tom Walker, nel paese di Natchez, il mio antico socio, è un ottimo figliuolo. Ma spietato coi neri. Eppure non vi fu mai uomo migliore sotto la cappa del cielo. Io gli dicevo continuamente. Perché, Tom, quando le vostre nere si lamentano voi le battete? Ciò non va bene. È cosa ridicola. Non vi accorgete che le loro grida non sono pericolose? Che è la natura che si sfoga e che se essa non prende questa via ne prenderà un'altra? E poi un tal trattamento le rende malaticce, deboli, fiacche. Eppure il diavolo potrebbe costringerle al lavoro. Perché non si avrebbe da usare bontà con esse e parlare loro con dolcezza? Un po' di umanità a lungo andare vi produrrà più guadagno che le vostre minacce e le vostre battiture? Ma Tom nulla voleva ascoltare e mi dimostrò tanto disprezzo che io fui costretto a romperla con lui, benché gli fosse un eccellente socio, abilissimo negli affari. Vedeste alla prova che il vostro metodo era migliore di quello di Tom Locker, non è vero? Sì, signore. Io evito le cose sgradevoli, come sarebbe lo strappare i bimbi dalle braccia delle loro madri e il porli in vendita. Li piglio quando sono fuori della vista dei loro genitori, nell'istante in cui meno vi pensano. Dopo il fatto tutto va da sé. Non avendo più speranza alcuna si quietano. Voi sapete che i neri non fanno come i bianchi i quali sono educati per conservare i loro figli e le loro mogli. Essi sanno bene che una volta venduti non hanno più da aspettarsi scampo. E appunto per questo quando siano bene avvezzati tutto diviene più facile. Credo che non sia agevole condurre via i miei. Lo credo, voi li tenete molto bene e siete da essi assai ben servito. Non già per amicizia né per bontà di cuore, perché un nero che trasportato qua e là per il mondo sia stato venduto a Tom, a Dick e Dio sa a chi altro non può avere in mente alcun ricambio di affezione. I colpi di bastone caddero senza misericordia sul suo dorso. Io però oso dire che i vostri neri, signor Shelby, andranno in una casa dove non staranno meno bene che in casa vostra. Naturalmente ciascuno parla in favore di se stesso, ma io credo che i miei neri siano trattati meglio che non meritino. Beh, felice chi è soddisfatto di se stesso, esclamò Shelby stringendosi nelle spalle e dando un po' a conoscere il suo disgusto. Bene, che pensate dunque di concludere? Bah, rifletterò e ne parlerò a mia moglie. Tuttavia, Hayley, se venisse l'occasione di discorrere di quest'affare vi prego di non dire nulla, perché se la cosa giungesse a notizia dei miei sarebbe difficilissimo mandar via uno solo di quanti schiavi ho, ve lo giuro. Siamo intesi? Tacerò. Sono ansioso di conoscere al più presto possibile una decisione, disse Hayley alzandosi e indossando il pastrano. Bene, tornate stasera tra le sei e le sette e avrete la risposta. Il mercante fece un leggero inchino e uscì. Ah, l'avrei gettato volentieri per le scale, disse Shelby fra sé quando vide chiusa la porta. Che impudenza! Se qualcuno mi avesse detto che un giorno avrei venduto Tom a quei vili mercanti del sud, avrei risposto, è forse un cane questo servo perché io debba disfarmene in tal modo? Ed ecco che vendo non solo Tom, ma anche il figlio di Elisa. Sul conto di quest'ultimo avrò da contendere con mia moglie. Dio buono, che cosa vuol dire essere indebitati? Il mercante vede la mia condizione e ne approfitta. Non dispiacerà forse al lettore di conoscere le cagioni che rendono la schiavitù molto più agevole nello stato del Kentucky. La prevalenza dei lavori agricoli di natura più uniforme, che non richiedono quei periodi di fatiche affrettate necessari nelle faccende dei distretti più meridionali, rende l'opera del nero più salubre e razionale, in specie quando il padrone, contento di un guadagno discreto, non è stimolato alla crudeltà dal desiderio di lucrare prontamente, senza badare alle forze dello sventurato. Chiunque, visitando una tenuta, vede la benevola indulgenza dei padroni e delle padrone, la leale affezione degli schiavi, si sente disposto a credere a un'istituzione patriarcale. Sfortunatamente questa scena è coperta da un'ombra spaventosa, l'ombra della legge. Fino a che la legge considera creature che hanno un cuore che batte, un'anima che sente, come semplici cose appartenenti a un individuo, fino a che un fallo, un caso fortuito, un'imprudenza o la morte di un buon padrone, potrà da un giorno all'altro cambiare una dolce protezione e un'indulgenza benevole in una miseria priva di speranza, riuscirà impossibile l'ottenere alcunché di bello e di desiderabile nell'amministrazione meglio regolata della schiavitù. Shelby era un uomo di cuore eccellente, propenso quanto altri mai all'indulgenza verso coloro che lo attorniavano. Non aveva mai trascurato di fare quanto potesse contribuire al benessere degli schiavi delle sue possessioni. Comunque però aveva speculato largamente e perduto nello stesso modo. Ne conseguirono debiti e quando sappiasi che le sue cambiali si trovavano riunite in grande quantità nelle mani di Hayley si avrà la chiave del precedente colloquio. Era pertanto avvenuto che Elisa, nell'avvicinarsi alla sala, aveva udito abbastanza per comprendere che un mercante faceva al suo padrone offerte di compre. Quando ella uscì si sarebbe volentieri arrestata alla porta ma la sua padrona la chiamò proprio in quel momento. Tuttavia ella credette di aver inteso che si trattava del suo bimbo. A questo pensiero il cuore le sigelò e involontariamente strinse al petto così forte il suo Enrico che egli la guardò tutto maravigliato. Distratta e preoccupata ella rovesciò la catinella, il tavolino da lavoro e finalmente porse alla sua padrona una veste da camera in cambio della veste di seta che ella le aveva chiesta. Ma che cos'hai oggi Elisa? Le disse ella. Oh signora! Esclamò Elisa. Poi alzando gli occhi al cielo proruppe in lacrime. Che c'è figlia mia? Che cosa ti è accaduto? Oh signora, signora, c'è in sala un signore che sta discorrendo col nostro padrone e io l'ho udito. Ebbene? Il padrone vuol vendere il mio enricchetto e la povera donna si inghiozzava convulsa. Venderlo? Oh no figliuola, tu sai che il tuo padrone non trafficherà mai con quei mercanti del sud, che mai non venderà alcuno dei suoi servi finché si condurranno bene perché supporre che gli voglia vendere il tuo Enrico. Orsù fatti coraggio, acconciami il capo nel modo stesso dell'altro giorno e procura d'ora innanzi di non ascoltare le porte. voi signora non darete mai il consenso vostro, non è vero? Certamente non lo darò mai, avrei da vedere anch'io che si venda a un mio servo. Ma perché parlare tanto di ciò? In verità Elisa tu sei troppo superba di tuo figlio, non può venire alcuno in casa che tu subito ti immagini che venga per comperarlo? Rassicurata dalle parole della signora Shelby, Elisa terminò con destrezza e abilità l'acconciatura della sua padrona ridendo anch'ella dei propri timori. La signora Shelby era donna di molto merito, così per intelligenza come per cuore, all'innata magnanimità e generosità di mente che è l'impronta caratteristica delle donne del Kentucky e la accoppiava principi religiosi e morali, sostenuti da una pratica costante ed assidua. Suo marito, che non aveva principi di un carattere particolarmente religioso, onorava e rispettava quelli di lei, forse era troppo inclinato a seguirne l'opinione. Certo è che gli lasciava piena libertà a tutti i benevoli sforzi di Ella per il bene e per l'istruzione degli schiavi. Se non credeva che le opere di santità di Taluni valgano a compensare i difetti del rimanente dei fedeli, pareva bensì ammettere che sua moglie avesse bastante pietà per ambe due, in modo da condurlo al cielo col mezzo della sua sovrabbondanza di quelle virtù alle quali egli non pretendeva affatto. La necessità di parlare con sua moglie dell'affare ventilato nel colloquio col mercante era un peso ben grave per lui, perché prevedeva le obiezioni e la resistenza che era certo incontrare. La signora Shelby, ignorando totalmente le difficoltà in cui versava il marito e conoscendone la bontà di cuore, era sincerissima nell'incredulità con cui rispose ai sospetti di Elisa, per cui non tardò a dimenticarli e più non pensò che ai preparativi di una visita che stava per fare. 2. La madre Fin dall'infanzia Elisa era stata allevata dalla sua padrona con una certa parzialità, come il cucco di casa. Chiunque abbia viaggiato nel sud pote scorgere il fare squisito, la dolcezza dei modi e del linguaggio che sono la precipua dote delle meticce e delle mulatte. Le grazie naturali vanno spesso unite, nelle prime, alla più rara bellezza, quasi sempre alle giadre forme. Elisa non è una figura immaginaria, noi l'abbiamo dipinta quale la vedemmo nel Kentucky, or sono alcuni anni, oggetto delle vigili cure della sua padrona e la cresceva a lungi dalle tentazioni che fanno della bellezza un retaggio sifunesto per la schiava. Fu maritata ad un giovane mulatto, bello e intelligente, schiavo in una vicina piantagione. Questo giovane, dato a Nolo dal suo padrone a un fabbricante di sacelli, aveva mostrato nel suo lavoro un'intelligenza e un'abilità che lo facevano considerare da tutti come il miglior lavorante della fabbrica. Egli aveva inoltre inventato una macchina per purgar la canapa, cosa in vero straordinaria dove si consideri la nascita e l'educazione dell'inventore. Giorgio, non meno intelligente che bello e di gentili maniere, si era tirato ben presto tutti i cuori della fabbrica. Non di meno, perché innanzi alla legge egli non era un uomo ma una cosa, le eminenti sue qualità rimanevano sotto il dominio di un padrone stupido, volgare e tiranno. Avendo questi sentito parlare della famosa invenzione di Giorgio, volle un giorno andare a vedere che cosa quella sua proprietà intelligente avesse fatto. Il fabbricante si congratulò con lui che fosse possessore di un simile schiavo. Ed eccolo a visitare la fabbrica, guidato da Giorgio stesso, il quale con sembiante giulivo e animato gli fa vedere le macchine. Ma portasi alta alla fronte, parla sì correttamente, apparisce sì bello e sì virile a un tempo che il suo padrone, ascoltandolo e seguendolo con lo sguardo, non può fare a meno di sentire la propria inferiorità. Perché mai doveva quello schiavo correre il paese, inventar macchine e tenere alta la fronte come se fosse un gentleman. Ma, diceva tra sé, lo concerò io per il dì delle feste e quando bisognerà vangare e zappare vedremo che cosa sarà della sua superbia. Perciò richiese il pagamento dovuto per il nollo di Giorgio e con stupore di tutti dichiarò la sua intenzione di ricondurselo immediatamente a casa. Ma signor Harris, gli osservò il fabbricante, questa determinazione non è troppo subitanea? E quando ciò fosse, costui non è forse cosa mia? Ma noi saremmo disposti signora a pagarvelo di più? È inutile, ho ripensato bene, io non mi trovo in tal bisogno di dare a nollo i miei schiavi. Ma questa occupazione signora sembra fatta apposta per lui, può darsi? So bene che in casa mia non fu mai capace di fare una sola delle cose che gli comandai. E quando si pensa che gli inventò questa macchina esclamò inavvertitamente un lavorante. Oh sì, ecco una macchina per risparmiare fatica, non è vero? Celebrate i neri per questo. E a qual pro di grazia? Ciascuno di essi non è una macchina? Giorgio stette come impietrito, udendo la sua sentenza pronunciata da un'autorità la quale era impossibile fare resistenza. Incrociò le braccia e si morse le labbra, ma l'ira gli bolliva nel petto a guisa di un vulcano e pareva che una fiamma divoratrice gli scorresse nelle vene. Ansante, con gli occhi accesi, egli era in procinto di sfogare la sua bile, ma il buon fabbricante, ponendogli la mano sopra il braccio, gli disse a mezza voce cedete Giorgio, andate per ora, noi procureremo di trarvi di colà. Il padrone tiranno si avvide di quella a parte e ne comprese il senso onde risolvete di star più saldo nella risoluzione presa di valersi del suo potere sopra la sua vittima. Giorgio fu ricondotto e messo ai più duri e più bassi lavori della fattoria. Egli poteva ben reprimere ogni parola di insubordinazione, ma il lampeggiare dei suoi sguardi e l'aggrottamento delle sue ciglia dicevano chiaramente che non era possibile che l'uomo divenisse una cosa. Giorgio aveva conosciuto e preso in moglie la sua Elisa nel tempo in cui dimorava alla fabbrica. Possedendo la fiducia del suo capo, egli andava e veniva con tutta libertà. Il suo matrimonio aveva ottenuto la piena approvazione della signora Shelby, la quale, oltre al piacere tutto femminile che provava nel fare l'unione di due sposi, era veramente contenta di dare la sua bella protetta ad un uomo della stessa condizione di lei e quale per ogni rispetto le si conveniva. Essi ricevettero la benedizione nuziale nella gran sala della signora Shelby, che ornò ella medesima di fiori di cedro, i bei capelli della sua schiava e acconciò il candido velo sulla graziosa sua testa. Nulla mancò a quelle nozze, né i guanti bianchi, né i vini squisiti e le paste dolci, né i convitati per ammirare la bellezza della sposa e l'indulgente liberalità della sua padrona. Nel corso di due anni Elisa vide spesso suo marito, né la loro felicità fu interrotta, se non dalla perdita, di due bambini che si amavano appassionatamente. La giovane madre li pianse con un cordoglio si profondo che la signora Shelby, la cui materna sollecitudine si adoperava continuamente a indirizzare verso il cielo quell'anima di fuoco, gliene dovette fare dolci e rimproveri. Dopo la nascita di Enrichetto, il dolore di Elisa si acquiettò e il suo cuore, riannodato da quel fanciullo alla vita, a poco a poco sentì le sue piaghe rimarginarsi. Ella fu felice fino all'istante in cui suo marito venne strappato dalla fabbrica per mano di chi ne era il possessore legale. Fido alla sua parola, il fabbricante visitò Harris alcune settimane dopo l'avvenimento sperando di trovare acquietato il suo sdegno e con tutti gli argomenti possibili si studiò di persuaderlo a ciò che rimettesse il suo schiavo alle precedenti sue occupazioni. Non mi venite a rompere il capo, rispose quelli brutalmente, so quello che ho da fare. Non era intenzione mia di insegnarvelo, signore, ma pensavo che considerato bene ogni cosa voi avreste trovato il vostro interesse a cedermi quest'uomo alle condizioni che io vi proponevo. Intendo, non mi sfuggirono l'altro giorno i vostri segni di intelligenza, ma io non ho paura di voi. Siamo in un paese libero, sapete? E io faccio di lui ciò che voglio e basta. Cadeva in tal modo l'ultima speranza di Giorgio, che non aveva davanti a sé che un avvenire di lavori degradanti, resi più amari dalle vessazioni continue di una tirannia studiata.